Il successo di Mercatorre sta nella sesta edizione, organizzata da operatori del settore, hobbyisti. Ce ne parla Giuliana Esposito, che è la responsabile di questa manifestazione. Mercatorre è la fiera dedicata al riuso, al collezionismo e all'artigianato, che Stecca e Cobar ripropongono ormai ciclicamente per sensibilizzare la popolazione ai temi del riuso e per restituire uno spazio simbolico della città, quali i Molini Medianali Marzoli, con un appuntamento di convivialità, condivisione e copartecipazione. È una manifestazione che cresce e può crescere solo grazie alla collaborazione di tutti quanti hanno abbracciato questo concetto e questa manifestazione. Ricordiamo che Mercatorre si terrà domenica 30 aprile dalle 10 alle 22 ai Molini Meridionari Marzoli. Sarà una fiera mercato dove è possibile trovare vinili usati, modernariato, oggettistica, come indumenti e cose un po' anche vintage. C'è un team che lavora dietro questa iniziativa? Innanzitutto il gruppo di professionisti che ruota intorno all'incubatore Stecca ha tanti altri professionisti che ci stanno aiutando a far crescere l'iniziativa. Sono fotografi, sono comunicatori, sono appassionati della sostenibilità ambientale e del riuso. Ci stiamo allargando sempre di più come gruppo di lavoro anche ad altre organizzazioni. Per questa edizione partner enogastronomico sarà Omursil Saporito. È una nuova collaborazione, quindi sarà possibile anche pranzare e cenare in occasione di Mercatorre.